Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, code a tratti per traffico tra Firenze e Scandici e BV1 variante in direzione di Bologna. In A11 rallentamenti ancora una volta per traffico intenso tra Montecattini Terme e Prato Ovest nella carreggiata verso Firenze. Arriviamo in FIPD per lavori, troviamo code di 2 km tra Empoli e Montelupo verso Firenze, in carreggiata opposta quindi verso Livorno, coda di 1 km tra Ginestra e Montelupo. Con riguardo al traffico urbano di Firenze, domani 9 settembre saranno attivate 5 nuove telecamere sulle corsie preferenziali del TPL in Viale dei Mille, Via Sestese, Viale Don Minzoni e Piazza Puccini. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!